Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, eccoci ritrovati anche stamattina per andare avanti con la nostra dinastia dei Flavi. Nella scorsa lezione abbiamo avuto modo di analizzare più da vicino il governo di Vespasiano, il padre di Tito e Domiziano, colui il quale inizia per l'appunto la dinastia dei principi Flavi. Abbiamo visto l'alex dell'impero Vespasiani, abbiamo visto la legge di Vespasiano sul potere che stabilisce le prerogative di diritti dell'imperatore anche rispetto al senato, abbiamo visto l'imponente sistema di costruzione di grandi opere che comincia sotto Vespasiano e prosegue anche sotto il suo successore Tito. Allora, proviamo a riprendere da qui. Allora, Tito Flavio Vespasiano, come vi avevo già accennato, è omonimo del padre, ha lo stesso identico nome. Nel suo caso si sceglierà per l'appunto il pre-nomen Tito e lo si chiamerà così, passerà così alla storia. Il suo è un governo molto breve, dal 79 d.C., la morte di Vespasiano, fino all'81 d.C., quando gli succederà Domiziano. Ci tengo a ricordare Tito attraverso questa espressione di Svetonio. Svetonio si riferiva a Tito chiamandolo amor ac delice de generis umani, l'amore e la delizia del genere umano. Questo perché Tito, soprattutto lo vedremo rispetto al fratello Domiziano, porta avanti un governo generoso e clemente. Sotto il suo principato non ci sono state per l'appunto delle condanne a morte pubbliche. In ogni modo, abbiamo ricordato che Tito, esattamente come il padre, proviene dall'esercito e proprio nell'esercito confida particolarmente. Già sotto il governo del padre si era infatti distinto in Giudea, dove era andato a sopprimere delle rivolte antiromane che erano partite da parte degli ebrei. Lo vedremo più avanti con Domiziano. Faremo un approfondimento per cercare di capire l'incompatibilità tra i cristiani e i romani, soprattutto dal punto di vista culturale. Lo vediamo più avanti. Per ora limitiamoci ad osservare che Tito, figlio di Vespasiano, inviato in Giudea, non solo riesce a soffocare la rivolta, ma distrugge il Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. Qui nelle slide c'è un errore. Ho scritto avanti Cristo, ovviamente è dopo Cristo. E in questa occasione riesce anche a portare molti schiavi a Roma, che sappiamo essere fondamentali, paragonabili quasi agli odierni elettrodomestici. Il brevissimo governo di Tito, della delizia del genere umano, come lo chiamerà Svetonio, dura però molto poco. Ed è funestato, dicevamo, da almeno un paio di eventi che sconvolgeranno la storia di Roma. Intanto, nel 79 d.C., il Vesuvio, che tutti voi conoscete, il vulcano che si trova vicino a Napoli, che si può addirittura ammirare da Napoli, nella Baia, erutta e distrugge completamente non solo le città, ma anche le popolazioni di Pompei, di Stabbia e di Ercolano, che per l'appunto si trovano nei dintorni. In questa foto vi ho riportato tre fra gli abitanti di Pompei che non riuscirono a mettersi in salvo dai lapilli e dalla lava incandescente che scorreva giù dalle falde del monte, rimasero intrappolate nella nava bollente, creando dei veri e propri calchi che tuttora sono ammirabili a Pompei. Ci tengo a sottolineare questo boxino che vedete qui a destra in alto. Allora, non so se sapete che recentemente, a causa dell'incuria in cui verteva il sito di Pompei, è crollata la casa dei gladiatori. Non solo numerosissimi sono stati nel corso degli anni d'anni, perché ovviamente è un sito di antica data e per di più numerose sono anche le polemiche legate alla gestione dei finanziamenti per questo progetto. In ogni modo, il progetto Pompei è stato illustrato brillantemente in un video di solo di sette minuti. Potete accedere cliccando, lo vedete direttamente da qui, vi si aprirà un link alla puntata di Petrolio dedicata appunto al progetto Pompei. Sono solo sette minuti che io comunque vi consiglio di vedere e guardate bene, quando dico consiglio è di obbligo a vedere, ma sono davvero interessanti perché almeno ci restituiscono un po' quella che doveva essere la realtà Pompei nel 79 d.C. E soprattutto ci illustra quelle che sono le attuali difficoltà di gestione del sito di Pompei. Non basta. Nell'80 d.C. Tito si trova a dover fronteggiare una nuova minaccia ed è quella di un incendio gigantesco che brucia ancora una volta parte di Roma. Lo abbiamo già ricordato, era avvenuto sotto Nerone con enormi polemiche sugli eventuali attori di questo incendio. Per quanto riguarda l'incendio avvenuto nell'80 d.C. non ci sono colpevoli singoli da indicare, quanto piuttosto dovremmo riflettere in generale sulle costruzioni delle insule, dei vari quartieri che componevano Roma, come abbiamo più volte ripetuto, abusi edilizi costruiti prevalentemente in legno, che arrivavano abitazioni che potevano arrivare fino a dieci pianici, testimonia Ostia Antica. In ogni modo, questo incendio distrugge una parte di Roma, ma l'amore e la delizia del genere umano mette mano alle proprie finanze, quindi al fiscus, e riesce a ricostruire parte di Roma. Vi consiglio, ancora una volta ve lo ricordo, di vedere il video sul progetto Pompei. Questo è stato il brevissimo governo di Tito, al quale è succeduto nell'81, dopo una morte improvvisa, Domiziano. Anche lui, Tito Flavio Domiziano. Anche lui, figlio di Vespasiano. Domiziano è molto diverso dal fratello Tito, si vedrà fin da subito, perché laddove Tito si era dimostrato nei confronti del popolo generoso e clemente, nei confronti del Senato, non aveva manifestato alcun tipo di animosità, Domiziano, il fratello, appare da subito crudele e spietato. Nei confronti del Senato apre ad uno scontro violento. Numerose sono le persecuzioni e i processi contro l'aristocrazia che si tengono durante il governo di Domiziano. Il fratello Tito era stato nominato delizia del genere umano proprio perché si era dimostrato che le mente non c'erano state delle uccisioni pubbliche. Ecco, quindi Domiziano appare in netta opposizione. Anche gli intellettuali vengono messi a tacere tacito fra questi. Il suo stile di governo, cioè il modo in cui egli decide di amministrare Roma, è assolutamente vicino a quello di un monarca. Può essere definito assolutistico proprio perché riteneva di essere un sovrano assoluto. pretendeva, ci dicono le cronache, di essere chiamato Dominus et Deus, Signore o Padrone e Dio. Un aspetto da ricordare di Domiziano è che sarà uno dei pochi imperatori che accompagneranno in tutte le battaglie le proprie truppe, guidandole. Sappiamo che gli imperatori romani sono decisivi, non possono perdere la vita durante uno scontro qualunque, dunque mandano i propri luogotenenti, i propri generali in battaglia, ma invece Domiziano è uno di quei generali, ripeto, sempre proveniente da una famiglia di militari come il padre e il fratello, che invece ci tiene in particolar modo a guidare le truppe. Questa è più o meno l'estensione che raggiunge l'impero romano per quanto riguarda i suoi confini a nord e ad oriente. Domiziano guida le sue truppe in Germania, creando le province, lo vedremo, della Germania superiore e della Germania inferiore. Le troviamo in quest'area, più o meno, lo vedremo anche in delle mappe successive, comunque l'antico nemico germanico viene finalmente, almeno in parte, annesso fra le province di Roma. Se ricordate, più o meno ci si era assestati a questa altezza con le conquiste in Britannia da parte di Claudio, Domiziano invece si impegna a continuare la conquista dei territori a nord dell'attuale Gran Bretagna. Provò anche a sottomettere quest'area, la Dacia, un po' più vasta di come viene qui rappresentata e che corrisponde all'attuale Romania, ma dopo numerosi scontri con una popolazione che vedremo anche in seguito si dimostrerà sempre molto dura e resistente, Domiziano è costretto a stipulare un trattato di pace perché non riesce a portare la battaglia dalla sua con Decebalo, il re per l'appunto dei Daci nell'89 dopo Cristo. Infine trattiamo un argomento che abbiamo solamente accennato parlando di Tito, ovvero delle persecuzioni dei cristiani perché se sottotito diciamo viene completamente raso al suolo il Tempio di Gerusalemme sotto il fratello Domiziano, sicuramente più crudele del suo predecessore, i cristiani vengono perseguiti con questo specifico obiettivo perché ritenuti incompatibili con il tessuto sociale di Roma. spiego. Intanto in questa immagine potete vedere scritto in lettere greche i nomi di quattro dei martiri cristiani, sapete che coloro i quali accettano la morte per difendere la propria fede passano poi alla storia come martiri e spesso vengono santificati. Qui ci sono i quattro nomi di quattro evidentemente cristiani che sono stati uccisi durante le persecuzioni e sono stati seppelliti in questa tomba collettiva che si trova in Dacia in Romania. A Roma la politica era inscendibile dalla religione abbiamo visto che spesso anche solo per partire per una campagna militare si chiedeva il conto agli aruspici si chiedeva al pontifex maximus di poter interpretare il volere degli dèi si coinvolgevano le vestali che come ben sapete avevano una funzione importantissima ricevevano e conservavano anche i testamenti degli uomini potenti dell'epoca quindi la religione ai tempi di Roma anche nella quotidianità è fondamentale il pater familias che si sveglia deve la mattina si deve porre i propri riguardi nei confronti dei lari e dei penati che sono le divinità che proteggono la casa e che proteggono gli antenati in ogni modo sotto Domiziano diventa ancora più difficile perché Domiziano pretende di essere chiamato non solo signore ma anche Deus Dio è del tutto inaccettabile da parte dei cristiani che ammettono di riconoscere una sola divinità che ha avuto un figlio incarnandosi Gesù Cristo quindi impossibile accettare la supremazia di Domiziano in questo senso Domiziano non lo accetta e lo fa uccidere qui abbiamo l'albero genealogico che scorreremo molto velocemente solo per vedere che la nipote di Domiziano Domizia figlia della sorella congiurerà ancora una volta con pretoriani e senatori per uccidere il marito che muore nel 96 dopo Cristo per oggi è tutto vi mando un abbraccio qualsiasi domanda sono a disposizione